È un taglio shock quello che colpirà la cultura della regione Lombardia nel 2012. Se nel 2010 la regione aveva destinato alla cultura 51 milioni di euro, nel 2011 ha tagliato per poco più della metà il budget regionale per la cultura, facendolo scendere a 25 milioni di euro. Nel 2012 il budget destinato alla cultura sarà di 7,8 milioni di euro. Per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo, nel 2011 sono stati spesi, sono stati investiti nello spettacolo 2,5 milioni di euro, nel 2012 per tutto il settore del spettacolo dal vivo sono stati destinati 167 mila euro. Per tutto lo spettacolo dal vivo è della regione Lombardia che è, ricordiamolo, una delle regioni più ricche non solo d'Italia ma così ama definirsi d'Europa. Questo è stato denunciato oggi in una conferenza stampa dai consiglieri Giulio Cavalli di Sinistra Ecologia e Libertà e Pippo Civati del Partito Democratico che hanno lanciato una petizione che trovate qui sotto e che potete firmare. Domani pubblicheremo un'intervista al consigliere Giulio Cavalli in cui parlerà appunto della situazione in maniera più dettagliata della situazione della cultura nella regione Lombardia.